Bianconeri, sulle certe, l'amore dell'UV! La Juve è fede, amore, passione. Seguila con lo Juventus Official Fan Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Atalanta. Quattordicesima giornata di campionato, sabato 27 novembre ore 18. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Ci trovi a Lizzano, in piazza Matteotti 22. Per info e contatti Antonio 348 80 88 803 Cristian 349 68 000 66 E grida con noi, forza Juve, fino alla fine!